Grande spettacolo di Paolo Andreucci e Rudy Briani al rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Il plurititolato campione Garfagnino non si è risparmiato nella gara di casa, regalando spettacolo a bordo della Citroen C3 Rally 2. Pubblico in deliria ad ogni passaggio del portacolori della scuderia Roresin di Rosario Montalbano, che ha fatto registrare il crono molto interessante, soprattutto nelle ultime speciali. Ritornato nel Ciar per testare lo sviluppo delle gomme MRF e Tires, l'idolo di casa ha esaltato il pubblico in prova con passaggi spettacolari al cardiopalma, senza risparmiare ogni centimetro di strada disponibile. Purtroppo stiamo mettendo a posto un po' il setup della macchina, per cui il programma è arrivato all'ultimo e siamo un po' ora in affanno, però dobbiamo sviluppare durante la stagione, questo è l'obiettivo. Prossimo appuntamento per Ucce e Rally Regione Piemonte, secondo round del campionato italiano assoluto in calendario dall'11 al 13 aprile. Evento particolarmente apprezzato, al quale Andreucci ha partecipato in passato, confrontandosi con competitor internazionali che ormai stabilmente scelgono i sinuosi saliscendi della langa cunese capaci di garantire un target tecnico di grande livello. Chiaro che Ucci punterà a migliorare il settimo posto del ciocco.